Io ho ancora un breve parterre del ruolo da far scorrere qua e do la parola a Enzo Scotti, presidente di Link Campus, tra l'altro dove l'ho insegnato, se ci vuol dire una battuta sul ruolo di università, Link Campus fa un lavoro importantissimo anche di formazione sulla tecnologia e sull'uso delle tecnologie per la pubblica amministrazione. Io non recupero tutto il tempo di Franco per solidarietà di casta, credo che la sfida maggiore di tutto il panorama post-alto è quello rivolto all'università, non ho bisogno di dire, proprio è in quella quadro di visione sistemica a cui ha fatto riferimento Pizzetti prima. Noi siamo una piccolissima università che si è posto due missioni, uno il problema di una formazione sistemica, secondo di una formazione internazionale che non è, significa insegnare in un'altra lingua, significa una cosa del tutto diversa. Terza, siamo parte di un consorzio di 16 grandi università inglesi, americane e cinesi che si sono posti questi temi come uno dei temi fondamentali. Quello di che cosa significa per l'università quello che sta avvenendo, proprio nella ricerca e nella formazione, non è solo un aspetto tecnologico, è un aspetto complessivo. Chiudo, noi siamo disponibili e ringraziamo dell'invito insieme ad altri, ad università italiane perché questo credo che sia la cosa più importante. Finirei con una battuta che è quella che ci siamo posti. Nell'università ci si troviamo di fronte ad una situazione in cui pensiamo di avere tutte le risposte ma ci siamo dimenticati che l'innovazione ha cambiato tutte le domande. Questo è il problema.